Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo è previsto per giovedì 4 aprile. Cessa la fase piovosa definitivamente sull'Italia, perché sulla penisola si allunga un possente anticiclone africano che insisterà a lungo sull'Italia. Certo, prevarrà il bel tempo, ma si perdono le speranze di avere piogge soprattutto sulle regioni meridionali, dove la siccità comincia a farsi sentire pesantemente, soprattutto sulla Sicilia. Quindi temperature al di sopra della meglio ovunque, massimo intorno a 18-21 gradi sulle regioni di nord-ovest e tirreniche, 21-23 gradi sulle regioni adriatiche meridionali.